Amici, ancora una volta bentornati all'appuntamento con Italmotor, sempre con grandi novità, anche con super sportive come questa alle nostre spalle. Ciao Massimiliana, come stai? Tutto bene, ciao Cesare, un benvenuto a tutti voi. Gli indirizzi? Via Stradella 82 e via Cardinal Massaia numero 5. Oltre alle super sportive come questa, anche tantissime occasioni, chilometri zero a vetture usate, ma a che prezzi? Hai detto proprio bene, a che prezzi? Pensate, vetture chilometri zero con sconti pazzeschi che raggiungono il 40% dal listino, in più la possibilità di finanziare l'intera cifra, con compresa anche l'assicurazione, incendio, furto e atti vandalici fino a 5 anni. Seguiteci. E cominciamo subito con una 500L, un 1.3 multigetto, 85 cavalli, dual logic, 17.000 solamente i chilometri percorsi, immatricolata nel 2013, quindi garanzia ufficiale Fiat. Cerchi in lega da 17, fendi nebbia, sensori parcheggio, climatizzatore e tantissimi altri optional, la porterete via a soli 15.500 euro. E continuiamo con un Alfa Romeo Giulietta, un 1.4 turbo, 120 cavalli, allestimento Progression, immatricolata nel 2013, ma pensate, solamente 3.000 chilometri, avete capito bene, 3.000 i chilometri percorsi da questa auto, la porterete via a soli 12.900 euro. E diverse le Lancia Y, le New Y qui a disposizione in via, stradella 82, delle versioni Silver con climatizzatore, fendi nebbia, autoradio con CD MP3, quinto posto, le porterete via a partire da 8.850 euro in caso di finanziamento e assicurazione. Stiamo parlando di vetture chilometri zero appena immatricolate, quindi vetture nuove appena immatricolate, avete capito bene il prezzo, 8.850 euro in caso di finanziamento ed assicurazione. Vuol dire che nella piccolissima rata mensile sarà compresa anche l'assicurazione, incendio furto fino 5 anni. Fiat Punto 1.4 Multi Air, allestimento Sport, cerchi in lega da 17, climatizzatore ABS, 6 airbag, CD ed MP3, immatricolata nel 2012, 30.000 solamente i chilometri percorsi, ma soprattutto con GPL. La porterete via a 7.900 euro. Un'autovettura dove non pagherete il bollo per 5 anni, avete capito bene, 7.900 euro. 8.900 euro, il prezzo di una Mazda 3, 1605 cavalli con soli 14.000 chilometri. 14.000 chilometri, una macchina praticamente nuova, avete capito bene il prezzo, 8.900 euro. E pochissimi chilometri anche di questa Fiat Bravo 1.6 Multi Jet, 120 cavalli, allestimento, lounge, cerchi in lega da 17, sensori parcheggio, climatizzatore automatico e Bluetooth, immatricolata nel 2014. Quindi garanzia ufficiale Fiat, la porterete via a 13.900 euro. Fiat Panda 4x4, allestimento climbing, con climatizzatore immatricolata nel 2008, 7.200 euro. Grande Punto 1.2 Dynamic, 5 porte, climatizzata, pochissimi chilometri percorsi, 4.900 euro. Fiat 16, 1.6 4x4, allestimento Emotion, climatizzatore automatico, cerchi in lega, vetri elettrici chiusura con telecomando, ABS, 4 airbag, un'autovettura full optional, pochissimi chilometri percorsi, la porterete via a 7.900 euro. Partirei dagli accessori, navigatore satellitare, sensori parcheggio, cerchi in lega, fari all'oxeno, climatizzatore automatico e tantissimi altri optional, presenti su quest'Alfa Romeo mito, Twin Air Distinctive, solamente 8.000 i chilometri percorsi e la porterete via a 9.800 euro. Mercedes GLK 220, CDI 4 Matic, immatricolato nel 2009, lo porterete via a 19.800 euro. Fremont 2000, Multijet 170 cavalli, allestimento Lounge, l'allestimento più bello, 4 ruote motrici con cambio automatico, sensori parcheggio, cerchi in lega da 19 e soprattutto interno, in pelle, navigatore satellitare e telecamera posteriore, lo porterete via del 2013 con soli 19.000 chilometri a soli 24.800 euro. E continua la grandissima promozione su grande punto, 1.200 chilometri a soli, ma affrettatevi, pochissime le unità rimaste, parliamo di vetture chilometri a soli, 5 porte con climatizzatore, radio CD ed MP3, potrete scegliere il colore e le porterete via, pensate, a partire da 7.850 euro in caso di finanziamento e assicurazione. Avete capito bene, 7.850 euro per un appunto, chilometri zero, 5 porte con climatizzatore, radio CD e MP3, 7.850 euro. Cosa vuol dire in caso di finanziamento e assicurazione? Vuol dire che nella piccolissima rata mensile sarà compresa anche l'assicurazione, incendio, furto e atti vandalici per 5 anni. Alfa Romeo Giulietta, 2.000, multijet, 140 cavalli, allestimento exclusive, l'allestimento più bello, cerchi in lega da 17, navigatore satellitare, interno in pelle e climatizzatore automatico, 15.900 euro. Punto 1.3, multijet, chilometri zero, 5 porte con climatizzatore e radio CD a partire da 9.350 euro. Chilometri zero a partire da 9.350 euro in caso di finanziamento e d'assicurazione, anche in questo caso, quindi vuol dire che nella piccolissima rata mensile sarà compreso 5 anni di assicurazione, incendio, furto e atti vandalici. Ford Fiesta 1.4, TDCi 68 cavalli, con climatizzatore, 60.000 chilometri percorsi, la porterete via a 5.700 euro. E parliamo adesso di Fiat Panda, nuova Panda, 1.2 allestimento lounge, climatizzatore ABS, doppio airbag, servo sterzo, fendi nebbia, quinto posto e tantissimi altri optional. Vetture aziendali che hanno percorso pochissimi chilometri e che porterete via, pensate, a partire da soli 6.900 euro, anche in questo caso con la promozione. Quindi in caso di finanziamento ed assicurazione nella piccolissima rata mensile sarà compresa l'assicurazione fino 5 anni, incendio, furto e atti vandalici. Ma vi ricordo nuovamente il prezzo da 6.900 euro. E ancora 500L, parliamo di un 1.300 multijet con tetto in vetro apribile e tantissimi altri optional, anche in questo caso dai cerchi in lega da 17 al clima automatico ai sensori parcheggio, la porterete via a 16.500 euro. Anche per oggi amici il tempo è terminato, però ricordiamo ancora gli indirizzi. Via Stradale 82, via Cardinal Massaia numero 5, vi aspettiamo da lunedì al sabato. Grazie Massimiliano, buon lavoro all'Irana Regia.